Proprietà e sindacati della Betafence oggi a confronto. Al tavolo c'era anche il Vice President Europe della Presidia Peter Rudd, che ha annunciato 25 milioni di finanziamento. La destinazione dei nuovi fondi, l'abbattimento dei debiti però non è piaciuta né ai lavoratori né alla Regione Abruzzo. Sono 98 i lavoratori che dal 2020 hanno conosciuto le alterne vicende dell'azienda produttrice di recinzioni e cancelli elettrici di Tortoreto. La sollecitazione del tavolo di crisi è arrivata dai lavoratori in seguito alla comunicazione della venuta cessione dei debiti della Holding a un consorzio di banche. In buona sostanza i lavoratori sono preoccupati dell'eventuale cambio dei vertici aziendali. Ci vuole chiarezza, come ha ribadito Michele Pagliani, segretario generale della Wilm Will, l'Aquila Terra. Steremo in campo ogni misura al fine di tutelare i lavoratori della Betafence. Certo l'azienda ci deve far capire in maniera chiara quali sono le intenzioni. Da quel punto di vista abbiamo fondi per quanto attiene la formazione ma anche per quanto attiene l'ammodernamento di macchinari e strumentazioni. Quindi ogni misura di nostra commetenza sarà a disposizione dell'azienda purché vengono tutelati i lavoratori della Betafence e soprattutto vogliamo che il sito rimanga a Tortoreto. Dunque se l'azienda resta nel territorio la regione c'è. Ora si tratta di mettere nero su bianco su un piano industriale. Chiediamo al presidente Marsilio di metterci la faccia, di farsi vedere a questi lavoratori e di pretendere le garanzie che la presidia in questo caso porta avanti. Dice di portare avanti perché noi per il momento non abbiamo nessun tipo di garanzia né a livello occupazionale né a livello produttivo. E resta sempre la scadenza di ottobre e il cosa accadrà dopo la cassa integrazione ordinaria. Quindi quello che chiediamo per il momento è subito e nell'immediato l'ammortizzatore sociale lungo, non corto come vogliono fare loro per sei mesi ma che sia almeno di un anno prorogabile di un altro anno. In modo che si potranno accompagnare quelli che potranno andare in pensione e fare spazio a quella lavoratori giovani che non si potranno ricollocare ovviamente per entrare nella grafica. Grazie. Grazie. Grazie.